Solo sfiorato il gol per il Paternò. I rossazzurri non riescono a segnare contro il comprensorio Montalto che vince 1-0 e guadagna il tredicesimo risultato utile consecutivo, complice anche l'arbitro. Pochi tifosi sugli spalti del Falcone Borsellino che verosimilmente si aspettavano qualcosa in più dai nuovi ingaggi del Paternò, schierati oggi per la prima volta dal tecnico Pippo Strano. E' in particolare due, Vianello, ex dell'Avellino, Gelo e Sassuolo, acquistato dal Real Vicenza e da Garufi. Ed è proprio quest'ultimo che qualche minuto dopo l'avvio della gara lancia un assist a Ruggeri, che però sbaglia la conclusione sotto rete. Il Paternò fallisce poi di nuovo con Mandarano che prova un tiro privo di potenza. Il Paternò spreca e non trova l'assetto giusto in campo. In area difensiva sono troppe le disattenzioni. Gli svarioni dei difensori consentono agli avversari molto più incisivi e capaci di sfruttare le incertezze degli avversari di passare in vantaggio. Al 26esimo sigla la rete della vittoria Sifonetti, che gestisce al meglio proprio un momento di indecisione di orefice, che nel tentativo di rinviare la palla finisce per terra. La panchina rossa-azzura reclama il fallo e contesta la decisione di far proseguire il gioco del signor Fracassi di Campobasso. Per la protesta viene espulso Cristaldi dalla panchina e l'arbitro allontana dal campo pure il presidente Stefani Amato. Dieci minuti dopo il Montalto resta in dieci uomini per l'espulsione per doppia munizione di Pistininzi. Sullo 0-1 si vanno gli spogliatoi. Nella ripresa la gara non cambia. Il Paternò sfiora solo il gol. La partita diventa sempre più nervosa e il Paternò non riesce a sfruttare l'uomo in più. Anzi, sono proprio gli ospiti a sfiorare il raddoppio con Zangaro. Poco dopo la mezz'ora anche il Paternò resse in dieci uomini fuori orefice per reazione. Una gara sottotono per il Paternò che chiude la partita con un ultimo svarione, questa volta di Dumitrascu che da solo davanti al portiere sbaglia il tiro. Partita dunque da archiviare in fretta sabato trasferta a torre annunziata. Grazie. 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 Grazie.